Monsignor Angelo Raffaele Panzetta, arcivescovo di Crotone Santa Severina, ha reso note le recenti nomine dei nuovi responsabili di alcuni uffici di curia della nostra diocesi. Direttore dell'ufficio liturgico diocesano Don Vincenzo Scerbo, direttore dell'ufficio catechistico diocesano Don Rosario Morrone, direttore dell'ufficio patrimonio e servizi logistici Don David Fiore, direttore dell'ufficio diocesiano per le comunicazioni sociali, la cultura e la stampa, ufficio stampa diocesano Don Francesco Gentile. La curia diocesana, cioè l'insieme delle persone degli organismi amministrativi e pastorali di cui il vescovo si affale per il servizio dell'intera comunità diocesana, sarà impegnata nelle prossime settimane in un intenso lavoro di programmazione del nuovo anno pastorale, denso di sfide a causa della particolare situazione sociale che viviamo in seguito alla pandemia ed al contempo ricco di nuovi stimoli e dell'entusiasmo che caratterizza in questa fase la nostra chiesa diocesana, da qualche mese guidata dal suo nuovo pastore Monsignor Panzetta. Tutta la comunità di Crotone e Santa Severina, insieme al suo arcivescovo, desidera ringraziare i presbiteri religiosi, religiose e laici che fino a questo momento si sono generosamente spesi per il bene della nostra gente, prestando servizio presso la curia diocesana e augura ai nuovi direttori un buon lavoro pastorale.